Una via completamente abbandonata e pericolosa. I residenti e i titolari di attività di via Ferriano a Fano lamentano da diversi anni lo stato disastroso della strada comunale che collega il comune di Fano con quello di terre roveresche. Dopo la segnalazione degli abitanti rivolta alle nostre telecamere e al comune di Fano, oggi a intervenire è l'assessore i lavori pubblici Fabio Latonelli. Ricordo che c'è stata questa pandemia che purtroppo ha fatto slittare la programmazione dei lavori. Adesso stiamo riprendendo appunto con la riprogrammazione del tutto, partendo dalle priorità che sono tantissime. Non riusciamo a fare miracoli in questo momento, però comunque cercheremo di arrivare dappertutto. Soprattutto vorrei anche dire che per accellerare i lavori stiamo appunto anche assumendo del personale che possa dare aiuto in queste situazioni che posso capire sono emergenziali.